tra i tanti giochi sicuramente ragazzi che aspettavo su pc uno di questi è red dead redemption ovviamente parlo del primo capitolo della celebre saga e playstation store sembrerebbe aver svelato l'esistenza di una conversione per pc del celebre gioco western della rockstar games ci avete messo quasi 10 anni ma forse ci siamo la pagina dedicata a red dead redemption dello store di sony è stata aggiornata e riporta vivi le epiche avventure western che hanno definito una generazione per la prima volta su pc non sembra all'apparenza un fake dato che la descrizione riporta dei dettagli minuziosi sulla versione pc magari siamo davanti che ne so a una fuga di informazioni o un errore grossolano non che non esista la versione pc ma che abbiano sbagliato nel senso che prima hanno scritto sta cosa ma avrebbero dovuto prima annunciarlo questo tipo ufficialmente quindi in questo sta l'errore o qualcuno magari semplicemente che ne so ha cambiato la descrizione per farci uno scherzo questo non lo possiamo sapere queste fughe di notizie non sono affatto nuove però ci aspettiamo onestamente dopo una cosa simile o un semplice annuncio quindi dove si va a ufficializzare l'uscita della versione pc o quantomeno una spiegazione decente a questa cosa quindi una smentita a quello appunto che è successo e io spero che insomma facciano un annuncio e che non ci sia una smentita perché siamo davanti veramente a un giocone con la g maiuscola detto questo ragazzi voglio sapere voi che cosa ne pensate sotto nei commenti il video finisce qui come al solito vi invito a iscrivervi al canale lasciate un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanella delle notifiche non perdervi gli altri video e supportare il canale vi ricordo sempre che saremo live anche su tiktok per sapere quando saremo live guardate le nostre storie instagram sta ballando l'inquadratura e mi sono picciato e volevo dire che l'audio fa un po schifo perché come al solito e sto ripetendo negli ultimi video sono in mobilità sono in vacanze quindi sto usando una postazione mobile e l'audio non può essere il massimo dato che registro con questo citofono del blu ieri sto facendo il massimo possibile spero che non vi stia sfondando le orecchie e niente ragazzi noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ah che bella pisciata che bella ah che bella così ah che bella